Simone aveva 4 anni, Lorenzo ne aveva 13. Sono stati uccisi da un mostro, il famoso Mostro di Foligno. Il bambino fu seviziato, violentato e ucciso con dei colpi d'arma da taglio al collo. Ho deciso di colpire di nuovo. La prossima settimana il Mostro di Foligno aveva un'identità, personalità che porterà Luigi a diventare un serial killer, dichiarando Luigi Chiatti semi-infermo di mente e condannandolo a 30 anni di reclusione. Ma come è stato possibile che sia passato dall'avere due ergastoli a soli 30 anni di reclusione?